Vogliamo ripartire con i botto, con i grandi eventi che rendono il capologo peligno capitale della cultura. A dire la donda di G e il vice sindaco, assessore alla cultura del comune di Sulmona, Luciano Marinucci, sta per tornare in città il premio capocrassi dopo alcuni anni di pausa. L'amministrazione dell'Anali vuole rimettere in auge una grande manifestazione, annuncia Marinucci, per rendere omaggio a una delle più alte autorità della filosofia del diritto. Abbiamo anche un impegno morale con Papponetti, ricorda l'assessore, che è stata l'anima del premio in questione. Un comitato sta lavorando per organizzare l'evento che porrà Sulmona al centro della cultura, della filosofia e del diritto, un evento che richiederà l'impegno della regione Abruzzo. Un comitato in cui il presidente è il professor Mercadande, poi in questo comitato c'è l'avvocato Lantosciupa che è il presidente regionale del premio Capocrassi, della fondazione Capocrassi, c'è il professor Polite, io sono in rappresentanza del comune insieme al comandante Febri che partecipa a questo comitato. Faremo venire a Sulmona le più alte autorità che riguardano la filosofia del diritto perché il pensiero di Capocrassi non è solo patrimonio di Sulmona ma è patrimonio a livello mondiale. Occhi puntati intanto anche il suo video 2017, la grande celebrazione del bimillenario della morte e poeta latino. Per noi è un evento eccezionale, continua Marinucci, ci giochiamo gran parte della nostra credibilità. Chiediamo il concorso di tutte le forze del territorio per organizzare una manifestazione che ruoti a 360 gradi intorno al nostro Ovidio. Faremo intorno alla figlia di Ovidio, il poeta dell'amore, delle grandissime manifestazioni che andranno a 360 gradi, diciamo dalla parte proprio letteraria, dalla parte proprio della rappresentazione teatrale, dalla scultura, dalla pittura perché Ovidio era un poeta eclettico a 360 gradi ed è una figura importante per cui come a Firenze fanno tante, noi valorizziamo la nostra figura di Ovidio, è una figura importante per cui anche qui ci giochiamo gran parte della nostra credibilità.